Lenovo è leader di mercato grazie al lavoro svolto da sempre assieme al canale, ai nostri business partner. Per questo vogliamo offrire sia ai nuovi partner, sia ai partner già attivi, ma che non hanno ancora ottenuto gli accrediti Gold o Platinum, l'opportunità di maturare incentivi trimestrali con una semplice registrazione al programma Lenovo Leveit. Cosa bisogna fare? Come prima cosa è fondamentale registrarsi sul nostro portale www.lenovopartnerhub.com riservato ai business partner. La registrazione richiede pochi minuti. Dopo aver eseguito l'accesso, andando sul menu programmi troverete la voce Lenovo Partner Eleveit. Un clic su Go to Elevate e voilà, ecco a voi svelati i rebate che potete guadagnare. Le tabelle sono due perché premiamo sia gli acquisti client IDG, notebook, pc, monitor, workstation, servizi, sia gli acquisti legati alle soluzioni di infrastruttura ISG, server, storage, software. All'inizio di ogni trimestre potete liberamente scegliere a quale obiettivo aspirare, base o top. La scelta è anche modificabile nei primi due mesi del trimestre. Avete scelto i top target sia per IDG che per ISG? Ottimo! Se a fine trimestre raggiungerete entrambi gli obiettivi, Lenovo vi premierà con l'accesso alla missione Star Seller, un ulteriore piano di rebate che vi garantirà voucher sconto utilizzabili tramite le quotazioni gestite sul partner hub. Durante il trimestre avrete a disposizione un cruscotto che vi indicherà il livello di fatturato raggiunto. I dati vengono trasmessi automaticamente tramite i nostri distributori ufficiali. Alla fine del trimestre i dati verranno elaborati in via definitiva e vi verrà confermato il valore di rebate maturato con le istruzioni per emettere la fattura di rimborso. Vi aspettiamo su Lenovo Partner Hub!